C'era questo posto qui a Terni che noi abbiamo sempre chiamato la Leo perché questa scuola qua si chiama Leonardo da Vinci che in realtà è una scuola, però qua sotto qua seduti qua e dietro a questa scuola qua c'eravamo noi, tutti noi che suonavamo diciamo che stavamo dentro la scena ternana musicale e diciamo che è da dove si partiva via, nel senso che il fine settimana iniziava qua, da qui decidevamo quello che fa, che era il 90% delle volte era Irish e Nexus ovviamente, però ci stavano anche delle sere in cui si partiva, si andava a vedere qualche concerto fuori e si seguiva la scena alternativa chiaramente, l'alternativa era punk dell'era e noi eravamo diciamo affascinati dai veri punk che c'erano a Terni alla fine degli anni 70 che erano poi fondamentalmente tutte le persone che andavano a Via Ternana che erano proprio esattamente vestite come, tant'è vero che i tifosi più famosi della Ternana si chiamano Freak Brothers, Freak Brothers è preso da un fumetto inglese del tempo del punk, quindi da questo fumetto qua è nata tutta la leggenda dei Freak Brothers e erano tutti loro veramente vestiti come i punk inglesi, cioè non c'era proprio differenza, se facevi una foto a Piccadilly Circus e una a Terni in quel periodo là, vedevi gli stessi identici punk, erano proprio uguali e adesso io non mi ricordo seriamente i nomi di queste persone qua, però ti giuro che le vista li conosco benissimo e ci sono delle foto allucinanti che prima o poi dovresti vedere perché sono proprio dipinti dell'era, capito? Noi eravamo, diciamo che noi, il nostro punk proveniva dall'America invece che dall'Inghilterra, il nostro era il punk dei Black Flag, dei Fugazzi, dei gruppi che più che altro si autoproducevano, cioè facevano tutto loro, cioè loro andavano in sala a prova e si compravano gli strumenti, iniziavano a sonare, registravano con quello che ci avevano e da soli andavano a promuovere i loro dischi in giro per l'America, una storia fantastica fu quella che coinvolse i Fugazzi e i Black Flag che si fece, eh? No, no, ma loro erano prima del Granger, fortunatamente si sono salvati da questa storia qua e loro fecero una roba allucinante perché un gruppo partì dalla costa est-americana, un gruppo dalla costa ovest-americana e autofinanziandosi fecero praticamente dalla costa est alla costa ovest per pubblicizzasse e da lì nacque proprio questo movimento punk allucinante che iniziò proprio con i Black Flag e con i Fugazzi e noi fummo tanto affascinati da questa cosa del fai da te, cioè noi fondamentalmente facciamo tutto da noi, noi andavamo a registrare da soli, a parte i primi primi tempi che ci aiutava qualche fonico a Terni, ma poi ci siamo fatti tutti i dischi da soli, tutte le produzioni, tutte le registrazioni, perché eravamo proprio affascinati da questo punk americano dell'autoprodursi, do it yourself si diceva. C'era il leader dei Black Flag, era Henry Rollins che tuttora è proprio attivissimo in America, nonostante ci abbia credo più dei 60 anni, come promotore della musica, soprattutto la musica indipendente, la classica musica che poi hanno chiamato Indy, che non c'entra, era un trattore mi si è passato, che non c'entra assolutamente niente con l'Indy vero, perché l'Indy indicato adesso è assolutamente una cosa fuorviante, nel senso l'Indy era independent, cioè fai le cose per i fatti tuoi senza essere legato a una major, senza essere legato in etichetta, senza essere legato a nessuno, che era la cosa più punk che esisteva, a me l'hanno fatta diventare la cosa più mainstream che esiste, perché adesso l'Indy è pop mainstream legato alle etichette italiane e ai sordi, quindi figurate te quanto può essere punk sta cosa. Sì, 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 assolutamente sì, qui proprio, è proprio stato l'inizio di tutto questo, che poi andavamo a suonare anche, il primo concerto nostro è stato alla fine del 95 e fu sotto la palestra del liceo scientifico, che era praticamente stata organizzata la festa alla fine della scuola e servivano due gruppi che suonavano, andammo noi e i Mad Friday, che erano un altro gruppo molto più punk poi tra l'altro di noi, proprio d'attitudine, tra l'altro il cantante Giovanni Capodombolo, noto panchettone ternano, a livello di Hermes insomma, ecco, che non ho nominato prima ma che stimo moltissimo, Maiolica, e ci fu questa festa qua sotto lo scendifio e per cercare di regolarla a livello di sicurezza fecero dei biglietti, ma pensate che la gente per venire là e riempire, se fotocopiò i biglietti in copisteria e arrivavano i biglietti farsi per entrare dentro il concerto nostro, che era il primo concerto che facevamo, quindi non era manco che eravamo così tanto bravi, però fu una giornata veramente bella. C'erano gruppi prima di noi, ma non erano tanto punk, erano più che altro rock and roll, venivano dalla vena dei rock and roll, cioè dalla vena dei Mother Love Bone, quella vena che poi ha creato i per jam, quella vena un po' glam rock, capito? Quindi anche Perry Farrell, con i Porn for Pyros, con... c'era la scena, ma la scena era più rock and roll, diciamo che la ventata punk è arrivata con noi all'inizio, la prima metà dell'anni 90, 94, 95, 96. A Terni eravamo una cifra, credo più di 10, più di 10 ma di qualità, non tutti i gruppetti, poi sparsi in giro, ma quelli proprio che suonavano, che avevano un perché, eravamo sicuramente più di 10 gruppi. Oh sì, c'era... allora noi facevamo parte dei Five Eyes to One e poi diventati Kick-Off 3, Five Eyes to One che si sono splittati anche con gli otto disc, quindi Kick-Off 3 e otto disc dopo i Five Eyes to One, prima di noi c'erano i Castapura, c'erano i Shit Thunder Shoes, c'erano tanti altri, veramente... insieme a noi poi ci fu la Nausea, la Gioia delle Lusinghe, l'Edunia che era un gruppo solo femminile, di tre ragazze, insomma tanto per dire che comunque quando non si parlava di inclusività eravamo molto più inclusivi, quando non tiravamo fuori sta storia che bisognava essere inclusivi, eravamo inclusivissimi. Quale era la filosofia di... La filosofia nostra sta insieme, cioè noi eravamo tutti amici, nonostante facevamo parte dei gruppi diversi andavamo tutti a vedere le prove degli altri gruppi e i concerti degli altri gruppi perché stavamo bene insieme fondamentalmente e quindi creavamo una scena gigantesca. Cioè, assolutamente, infatti con il fatto che ti ho spiegato che facevamo tutto da soli era proprio per il fatto che ci ribellavamo a qualsiasi tipo di sovrastruttura, capito, che ci potesse aiutare a diventare famosi perché noi volevamo diventare famosi ma con i mezzi nostri e con le idee nostre, non con qualcuno che ci aiutasse a diventarlo e soprattutto non con qualcuno che c'aveva i soldi, perché era quello contro cui ci scagliavamo noi, erano proprio i soldi e il potere. Quindi un po' diciamo anarchico? Sì, anarchico-punk, sì, anarchico-punk. E poi in realtà se sentivi la musica nostra non era manco tanto punk, era molto più melodica, però a livello delle idee eravamo proprio anarchici, assolutamente, anarcho-punk, sì, sì, assolutamente sì. Do it yourself però, fallo da solo. E qual è l'episodio proprio più... Uno degli episodi più eclatanti che mi riguarda, che è successo con il gruppo mio, fu una festa, perché purtroppo qui a Terni si dovevano fare marchette, si andava per forza alle feste dell'unità perché erano le uniche feste che ti facevano suonare e per suonare oltre a questi locali che ci avevamo dovevamo andare là. Allora un giorno una festa dell'unità che si faceva ai campacci delle marmore che stava vicino a Terni, vicino alla cascata delle marmore, ci imposero di abbassare il volume perché c'era il DJ che suonava vicino a noi e noi per tutta risposta, proprio panchettissima sta cosa fu, rispondemmo, io risposi al microfono, scusate. Sì sì, adesso abbassiamo il volume, mentre invece mi girai verso i ragazzi che suonavano con me, Enrico e Valerio, e gli dissi allora ragazzi un minuto tutto a palla, mettete l'amplificatore tutto a palla solo là e facemmo un minuto solo là con tutti l'amplificatore a palla, mentre il batterista nostro tirava i pezzi verso il DJ che stava a fare il DJ set. No, nessuna conseguenza perché eravamo talmente pazzi che nessuno veniva là a fermarci. Quindi dal punto di vista ideologico c'è stato qualche, diciamo, contratto, anche diciamo violento? Ma noi eravamo, allora parecchi di noi erano molto attaccati alla filosofia del tempo, tanti leggevano i propri veri filosofi che si studiavano alle superiori, tanti erano proprio veramente intellettuali, assolutamente intellettuali, quindi eravamo intellettuali ma eravamo anche anarcho-punk, quindi volevamo staccarci da tutto e da tutti però con le idee dei filosofi che c'erano all'era. Io mi ricordo che leggevo Nietzsche, quindi avevo delle idee in mente che non erano tanto anarchi o punk, erano idee che ti potevano portare a costruire una forma di punk diverso da quello che c'era prima, perché noi però dall'altro schifavamo anche il punk, a un certo punto eravamo contro tutto, anche contro chi c'era stato prima di noi, quindi per noi il punk quello vero era quello nostro, non era quello che c'era stato negli anni 70. Esatto, noi immaginavamo un modello di società dove i dolori nostri invece che tenerli dentro di noi potevano liberarsi, uscire da noi e renderci la vita più facile, perché la vita che facevamo non era così facile, eravamo veramente depressi, tant'è che te dico, leggevamo i poeti maledetti, leggevamo i filosofi maledetti proprio per il motivo che eravamo completamente oppressi, esatto, oppressi dal sistema. Terni era una città di sinistra, era una città di sinistra, adesso non lo è più, però lo è stata per tantissimi anni e era una città che è stata come Aberdeen, come Seattle le dicevamo, Aberdeen e tutte queste città dove sono nati, dove è nato il grange, dove sono nati questi movimenti qua, era una città operaia, nel senso dicevamo l'acciaieria e basta, quindi Terni si reggeva su quello e basta, e era una città comunista e a noi queste due cose non ci stavano bene, né l'acciaieria né il comunismo, quindi eravamo contro, perché non si può formare un altro metodo, un altro modello di città che non sia quello, andavamo contro gli standard, capito? Allora cerchiamo di rifondare Terni da noi, esatto, 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 cerchiamo di decentralizzare il potere, di decentralizzare la situazione, anche la periferia, verso anche altri posti, infatti adesso sta succedendo questa cosa, stranamente, proprio adesso si decentralizza tutto, qui a Terni il centro è morto, non c'è più niente, sta quasi tutto in periferia, proprio perché noi, l'idea nostra era proprio quella di sparge, sparge il potere, non accentrarlo. E su questo conflitto c'è stato, diciamo, qualche tipo di violenza? Sì, assolutamente sì, ci sono state violenze perché c'erano gruppi filofascisti, come ci sono sempre stati a Terni, c'erano gruppi filocommunisti e non stavamo bene né a niente all'altro, quindi le botte le piavamo da destra e da sinistra, chiaramente. C'è stato, sì, sì, qui, guarda, questa piazza che vedi qua è stato teatro di varie risse nel tempo, cintate, mazzate con dentro la sabbia, insomma, c'è gente che ci è andata all'ospedale. Mi ricordo una volta in particolare che fecero male in testa al ragazzo e andammo all'ospedale, eravamo in quattro, tutti e quattro completamente ubriachi, tant'è che quella che è uscita fuori, nonostante questo sanguinava, ci ha chiesto chi era di noi che stava male, capisci? No, noi no, in realtà veramente noi non ci cagavamo né le forze dell'ordine, né i fascisti né i comunisti, cioè per noi eravamo oltre tutto, eravamo fuori da tutti i discorsi, cioè se venivano i carabinieri li trattavamo come avremmo trattato un amico, non avevamo questo senso del potere che avevano loro, questa sottomissione, noi abbiamo sempre guardato la gente negli occhi dritta per dritta, non abbiamo mai abbassato la testa, questa è stata la cosa che ci ha fatto creare una scena, perché la scena non si crea su niente, la scena si crea su queste cose proprio, su questa comunione dei ideali, insomma, capito come? Quando entravamo in un locale noi o con altri gruppi, con gli amici nostri, il locale cambiava quella sera, era nostro, non era di quelli che ci stavano prima, quindi questa cosa un po' dava fastidio, capito? Che ha lasciato per oggi? Purtroppo oggi come oggi direi che nel 2023 si è perso un po' tutto quello che abbiamo fatto noi, perché i ragazzi hanno cambiato totalmente il modo di vedere la musica e di vedere lo stare insieme per la musica e non si ribellano più neanche, perché io non vedo movimenti che si ribellano a qualcosa, probabilmente non ci hanno manco niente contro cui ribellarsi, che gli hanno levato tutti i punti cardini e pensano solamente a sballarsi, probabilmente, perché quella è l'unica forma di ribellione, cioè tipo non fumare, non te drogami, me drogo e fumo, ma è rimasto solo quello, gli ideali non ci stanno più, non ci sta proprio l'ideale per il quale abbiamo combattuto noi, per rendere questa città non la provingetta che era, ma una città più intellettuale, più… Sì, no, no, è solamente una sorta di rifiuto cieco proprio, senza motivo, capito come, cioè drogasse e sballasse, ma non c'è motivo, non è una ribellione, una cosa che si faceva prima era quella che mi drogavo e mi sballavo perché almeno te, testa di cazzo, parlavi male di me, capito? E te l'andai a fanculo poi, tra l'altro. Quindi questa è la ribellione nostra, questa adesso non è una ribellione. Quindi se dovessi tracciare un bilancio oggi per quello che avete fatto voi, qua a Terni, io dico, niente di… Qua a Terni di quello che abbiamo fatto noi, qualche eco è rimasto sui ragazzi che ancora suonano, perché ci sono delle band che suonano, con degli ideali, con dei testi che poi vai a leggere e capisci che sì, sono stati ispirati da te fondamentalmente, da quello che facevi te in quelli anni. Ma io tuttora incontro gente il sabato sera che mi dice, che se ricorda di me, che sono stato un'ispirazione, che sono andati avanti perché ci hanno sentito e questa cosa è una cosetta che riempie proprio di gioia, però… Sì, che ancora suonano oggi, ieri stavo a parlare proprio con il cantante degli Antefatti, che è un gruppo che tra l'altro è uscito anche da Terni, sono diventati anche abbastanza conosciuti, in Italia hanno fatto dei video e loro proprio ieri mi diceva, mi ricordo proprio di te, dell'Alieno, perché ero il cantante dell'Alieno, che mi avete ispirato e mi avete fatto veramente pigliare in mano la chitarra, cioè capito? E poi sono diventati più bravi dei te, quella è la cosa che anzio. Quindi diciamo che poi se dovessi ricordare oggi qualcuno, che sai qualche punk che è rimasto? Qualche vero punk che è rimasto? No, purtroppo no, ti devo rispondere te no. C'è sta Hermes, ma Hermes lo fa in un altro modo il punk, prima lo faceva per strada e ora lo fa sui social e quindi sì, se vuoi dire che lui la sua idea la sta a portare avanti, ma su un altro ambiente, capito? Diciamo, ricordiamo Hermes, Maglioni, grande Hermes. Diciamo Hermes, Maglioni, grande Hermes. Beh sì, Hermes adesso fa il punk sui social, cioè ha creato un giro, da prima un posto sui social dove creava ste bufale che poi hanno funzionato. All'inizio funzionavano tantissimo, soprattutto sui personaggi famosi, tant'è che c'è una marea di denunce, in realtà così, perché Hermes Maiolica, certo, certo, Hermes Maiolica che era, prima stavo a parlare e dicevo che era un punk all'inizio degli anni, la prima metà degli anni 90 che veniva a vederci a noi suonare, noi vedevamo sta cresta, capito, in mezzo al pubblico e ha portato la sua idea punk dopo anche sui social, quindi diciamo che ancora porta avanti la sua idea punk fondamentalmente. Lo salutiamo sì, lo salutiamo con tanto affetto, cuoricino.